non siamo sordi è che Tofi ha paura dei tuoni a posto di comprare il guinzaglio a posto di comprare il guinzaglio lo spray o le pillole sto utilizzando delle tecniche vediamo, la dicono di desensibilizzazione e di controabitudine non è così facile anzi vuole veramente tanto il lavoro e si parte proprio un po' un sacco come va? ciao Tofi ma non l'avete fatto? e capuzza che non siamo che non siamo da indurse che non siamo da indurse Tofi ciao Tofina brava Tofi brava è una brava cagnoletta bella è una cagnoletta bella le fiorilline le fiorilline le fiorilline non possono stare nella tempesta le fiorilline le fiorilline le fiorilline le fiorilline si inizia la preparazione allora poi ritorniamo mattino parlando delle aiuole io so che voi siete stati anche ma dove sono gli ossicini e da lì dopo è stato un esplorato poi anche con i robotini che si mette chi li vuole questi? è anche un orario in cui posso fare queste cose è un orario in cui posso fare queste cose perché non è di notte di notte si va a infilare la sotta e va in iperventilazione però vediamo che succede ora rientro se non si taglia il terzo domani se non si concima e se non si fa la rinaggiatura allora oggi abbiamo conosciuto i vostri milaio ciao ci vuole la pappa? volete la pappa? la pappina? la zucchina la zucchina vieni brava vieni amore vieni giochiamo dai e caluzza e caluzza ora ricomincia a ventilare posto vieni vuoi la pappa brava brava brava